32 euro e 98 il prezzo di questa padella da 24 centimetri ve lo dico subito secondo me un prezzo esagerato per una padella di queste dimensioni e per questo non avrà le mie 5 stelle sebbene però andiamo a vedere sia una padella un po particolare perché non è proprio di quelle pensate per la carne ma ha uno spessore di quasi tre dita di altezza sui fianchi e una padella di quelle pensate ed è più che corretta la fotografia nella scheda del prodotto probabilmente pensate per quelle quiche per quelle frittate alte insomma per quelle preparazioni che richiedono proprio sì una padella che sia appunto piatta sul fondo ma che sia molto alta perché all'interno deve cuocere qualcosa che si deve sviluppare però anche in altezza e questo lo fa bene perché ha dei bordi piuttosto verticali ve lo faccio vedere anche di taglio piuttosto verticali non sono inclinati a 45 gradi o più ma sono piuttosto verticali e quindi contiene eventuali liquidi che devono andarsi a solidificare come tipicamente avviene per frittate con 3000 cose all'interno molto molto bello invece il manico veramente di una piacevolezza questa impugnatura che è disegnata in legno ma non credo francamente che sia legno mi sembra un materiale plastico però rifinito molto bene che sembra vero legno ma allo stesso tempo con un grip molto delicato quasi vellutato e che è veramente molto gradevole per l'impugnatura poi ce l'abbiamo sulla scrivania non a caso perché in confezione ci arriva pure a questo cacciavite che qua si dovrebbe aprire ed è a stella da un lato ed è piatto dall'altro lato e quindi in base a come lo inseriamo possiamo poi utilizzarlo perché c'è un cacciavite con una padella perché il manico che è presente negli anni nel tempo sicuramente si andrà ad allentare inizierà a ondeggiare quindi infilando qui dentro il forellino il cacciavite si può andare a stringere la sua vite in modo tale che ecco qua che mordi in modo tale che vada a tenerlo bello stretto e quindi anche pensato per il futuro per la manutenzione molto bella la qualità la tipologia delle finiture il materiale insomma una padella di alluminio ma con uno strato antiaderente in pietra granitica veramente ben fatto tra l'altro è adatto a tutti i tipi di fornello perché include ceramica gas induzione allogeno elettrico e definite le varie tipologie che esistono quindi veramente compatibile super compatibile con tutto e ben rifinito nulla da dire quindi sulla qualità però attenzione il prezzo è bello si paga tutto queste finiture questi dettagli queste caratteristiche perché 32 euro per una padella beh non sono proprio pochi sì è vero una padella un po' particolare un po alta rifinita però 24 centimetri quindi poco più del mio palmo anzi il mio palmo messo sul fondo e quindi neanche una padella per tutta la famiglia una padella piccolina che senza coperchio in alluminio secondo me un po alto il prezzo di questo prodotto detto ciò la qualità a mio avviso c'è